Sono stati tanti i temi discursi durante il primo Consiglio Comunale del 2021. Il dibattito si è aperto con l'interrogazione del consigliere della Lega Dario Andreolli relativa al riposizionamento degli uffici dell'ente Parco San Bartolo situati in via Varsavia. L'assessore al bilancio Riccardo Pozzi ha sottolineato che per la struttura di Baia Flaminia non è prevista la vendita, ma bensì un potenziamento, il quale potrà essere effettuato soltanto con lo spostamento degli uffici in altri immobili disponibili, come per esempio parte della sede del quartiere di Fiorenzuola. Dichiarazioni che non hanno comunque trovato un riscontro favorevole dal consigliere di opposizione. Io credo che non essendoci una contrapposizione negli intenti sia molto sbagliato, molto pericoloso e altamente a mio avviso censurabile il fatto che si disdica o si voglia disdire un contratto di affitto con un previso così basso senza avere un'alternativa chiara di dove si intende trasferirsi. Perché rispetto alle volontà c'è il fatto che ancora non è stato definito una sede chiara. Il confronto tra la giunta e la minoranza e tra le diverse forze di opposizione si è poi acceso sulla bocciatura della mozione presentata dal consigliere Emanuele Gambini di Prima Cepesaro sull'intitolazione di una strada, piazza o rotatoria per i caduti di Nasseria. Proposta che ha raccolto la contrarietà della maggioranza e l'astensione dei pentastellati. Bocciata anche la proposta del vigile di quartiere firmata dai consiglieri di Prima Cepesaro e Forza Italia. Sul piatto del consiglio è poi tornata anche la questione della variante celletta. È stata approvata con 22 voti favorevoli e 9 contrari la mozione presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle che chiedevano il ritiro della proposta. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha affermato che seguendo le indicazioni del consiglio la previsione urbanistica sarà spostata in un'area già costruita del territorio. Io credo che su quell'area si sia esagerato dal punto di vista della discussione politica nel senso che non è assolutamente dal mio punto di vista un'area ambientalmente sensibile o da tutelare. È un'area comunale tra l'interquartiere e il nuovo casello. Quindi non è di certo un'area ambientalmente integra o non compromessa dal punto di vista infrastrutturale. Avevamo deciso di valorizzare quell'area flessibilizzando, dannogli anche la possibilità di essere trasformata in area commerciale. Poi si è aperto il dibattito che sia nella mozione di Lugli, dei 5 Stelle, sia nella mozione di Pandolfi e altri, avete ribadito, e ho deciso di, pur diciamo non condividendo nelle ragioni di fondo, ho deciso di ascoltare l'orientamento di diversi consiglieri e non solo, anche di alcuni consiglieri di quartiere. E quindi abbiamo deciso di spostare quella previsione urbanistica in un altro luogo già costruito. L'indicazione che ho dato agli uffici e che sta seguendo l'assessore Nobile è quello di riportare a servizi pubblici, come era prima, l'area della celletta. E quindi in teoria, in futuro, se ci sarà la necessità, al momento non si intravede, quella può essere un'area nella quale al massimo ci si può fare una palestra, una scuola, un servizio pubblico. E invece di flessibilizzare l'attuale sede della scuola elementare Mascaruccia-Soria. Poi anche di quello, probabilmente non avremo bisogno, magari rimarrà a scuola. Però siccome, come avete visto, abbiamo deciso di fare la nuova scuola Dante Alighieri, non sappiamo ancora se la Dante Alighieri potrà essere una scuola ampia a tal punto da ospitare anche le elementari. Però sostanzialmente, anche per non perdere valore, diciamo una previsione che il Comune ha dato su un terreno, abbiamo spostato sull'attuale scuola Mascarucci la possibilità in futuro di poterla trasformare se non servirà più una scuola e quindi per dare valore al patrimonio del Comune.